Se n'è parlato in un summit organizzato a Roma da Transparency International, dall'ISPE Sanità e dal Centro Ricerche e Studi su Sicurezza e Criminalità. In Italia la corruzione è prima ancora di essere un fenomeno criminale e un fenomeno culturale, ed è legato ad una ripetizione generale, costante ed uniforme, di determinati comportamenti in determinate circostanze. E in sanità la corruzione si è eretta, spesso a regola non scritta, a consuetudine, entrando a pieno titolo in alcune realtà sanitarie, tra le pratiche normali di vita quotidiana, ed è stata interpretata come strumento per il superamento di ostacoli burocratici e temporali. Se è vero che la politica di contrasto alla corruzione e alla illegalità, ha spiegato Francesco Bevere, direttore generale dell'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, non può fare a meno di un adeguato e comunque dissuasivo sistema di repressione dei singoli episodi di malaffare, è altrettanto vero che devono essere realizzati percorsi mirati alla prevenzione del fenomeno. E questo sarà possibile grazie all'attivazione di specifici sistemi di allerta, idonei a monitorare l'efficienza gestionale delle aziende sanitarie e dei singoli sistemi sanitari regionali, ma anche a scongiurare la realizzazione di comportamenti illeciti. Insomma, come ha sottolineato il ministro Lorenzin, questo sistema non ha una finalità ispettiva né repressiva, si vuole giocare d'anticipo e porre in essere tutti quegli accorgimenti che ci permettono di mettere a fuoco le aree a rischio e prevenire comportamenti illeciti.